Una recente campagna elettorale a sostegno di Luciano D'Amico, adesso il passaggio in azione, come vai? Sì, è stata una campagna elettorale a sostegno del professor D'Amico, adesso il passaggio in azione e dopo un'esperienza politica già ventennale mi sono sentito subito di accogliere questo nuovo progetto di azione che è nato negli ultimi tempi grazie al sostegno, all'apporto dell'iniziativa dell'onorevole Giulio Sottanelli Azione attualmente rispecchia quelle che sono le idee riformiste e innovative a tutti i livelli, sia a livello nazionale che è in occasione oggi del rinnovo del Parlamento europeo, quindi credo che sia importante in questa fase dare nuova linfa attraverso questo nuovo progetto quindi ci sarà un mio impegno diretto e forte che vada in questa direzione perché abbiamo bisogno nel nostro territorio, in Italia e in Europa, proprio di una spinta riformista Tra l'altro si vota Colledara, di cosa ha bisogno e di cosa avrebbe bisogno il paese per il prossimo futuro? Sì, il paese si inserisce Colledara appunto in un quadro della vallata siciliana molto importante, ricco di nuove opportunità I comuni come Colledara hanno bisogno di persone preparate, competenti, che abbiano a cuore quelli che sono gli interessi della cittadinanza Sicuramente io auspico e mi auguro che ci sia da questo punto di vista come negli altri comuni ci siano persone, giovani e anche meno giovani interessati a dare questa spinta riformista anche nei nostri territori Grazie